questa terza sezione viene data in dotazione sui pack di queste cinque rubasien sulla superior sulla z5 sulla cruiser sulla data 98 anche sulla firecar superior mi trovo qui davanti a voi perché ho avuto molte richieste sull'utilizzo di questa terza sezione praticamente si può riassumere in un doppio uso il primo è quello di allungare il capping kit che da scodellino e portare la lunghezza identica del kit match a quattro pezzi o del kit carpa a tre pezzi il secondo quello per cui mi è stato richiesto un chiarimento è quello di poter allungare per pescare sotto sponda un power kit a due sezioni quindi non andremo a utilizzare il terzo pezzo della canna bensì utilizzeremo questo terzo force che veramente il nome dice tutto kit veramente forte proprio per la pesca sotto sponda ai big fish che hanno bisogno comunque di essere veramente contrastati con molta molta energia spero di essere stato chiaro comunque sono sempre a disposizione per qualsiasi altra chiarimento o delucidazione un saluto